Allora, Pumas Partizan, siamo sul 3-0, i marcatori Santini, Biratsky, il raddoppio e il 3-0 è di Lodarnicola. Pumas Partizan, siamo sul 3-0, i marcatori Santini, il 4-0 è di Lodarnicola, 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 il 3-0 è di Lodarnicola, il 4-0 è di Lodarnicola, Toribco, biggest flatteanger, il gr maxima, il 5-0 è di Lodarnicola, il 5-0 è di Lodarnicola, il 40-0, è di Lodarnicola, il 4-0 è di Lodarnicola, il 4-0 è di Lodarnicola, bravo, va bene pure lì bravo Manuè, dai bravo bravo bravissima bravo vabbè la figa sfodi la figa è l'ultimo bravo un metro, un metro, un metro a te, un metro più, giochi un metro, un metro, almeno un metro, se lo tenete un po' e si perdono un po' e si perdono un po' di capoccia, c'è una volta di raccogliare, vado faremo i passini, faremo le vostre, le vostre, le vostre, le vostre, si stanno a cuore ci stanno a cuore, le vostre, le vostre, le vostre, si stanno a cuore però poi la fascia chi l'avrebbe la tua non me lo stendere lasciamo perdere vai Fidi, vai a provare un percazzo bravi, dai 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 io sto in tosso io sto fatto dai Michele, dai Michele, pomo giochi, giochi, giochi Michele non ti fermare però, ma condisci dai, 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 dai andiamo, andiamo, andiamo gioca, gioca dai Michele, dai Michele vieni giù però faccio un errore di passaggio, giochi montato al basso tira al fondo terzo fallo blu uno faccio un largo, ovo indietro eh, grazie mi ha mai avuto arriva, arriva, arriva sei l'ultimo Tommy? si, si vado io uno wow, wow grazie Giovanni, vendite brava, tira, salta mi salta mi salta mi tira che cazzo faccio non ce l'avete non ce l'avete non ce l'avete vieni indietro vieni indietro vieni indietro bravo Davy e al prossimo ringrazio Bussone che tiene palla in mezzo a due continua a prova una conclusione da posizione defilata esterno della rete cambiaso porta avanti il pallone appoggia su Dulce perde palla, fallo no rimessa laterale ok uno parte Cesaroni che prende in pieno Bussone fa la carambola su Perleonardi prova un filtrante che viene intercettato senza averlo da Dulce che si riappoggia indietro su Perleonardi tenta una conclusione da distanza siderale Biraschi Bussone di nuovo Biraschi pressato da Gambiaso duello fra i due tiene palla poi palla che filtra ottima triangolazione che Biraschi tiene ancora la palla in mezzo a due se ne va con un numero e poi prova la conclusione di Tacco che per poco non finisce in rete grande giocata di Biraschi caccio d'angolo Notar Nicola Biraschi pallone per Bussone che punta per Leonardo tiene palla suolata contro suolata conclusione di Notar Nicola palla recuperata da Bussone che con una Veronica per Leonardi però un filtrante ma perde palla palla fuori un filtrante un filtrante uno Mancini riappoggia su Bussone che se la alza e prova una conclusione di collo non fallo Dolce prova un passaggio su un tunnel palla persa vedo il passaggio di Mancini per Santini che amministra alza la palla Bussone prova un passaggio aereo uno cambiato per Dolce cambiato di nuovo appoggia su JJ gol gran gol piazzato anche se mi pare che la conclusione è stata di punta Notar Nicola punta cambiato si riappoggia Bussone Dolce che tiene palla sul calcio d'angolo attenzione palla che viene intercettata perché molto telefonata cambiato di fisico e poi per laterale blu Bussone che punta cambiato se ne va se ne va sulla fascia ma perde palla è stata intercettata da Perleonardi di punizione per leonardi provo una sorta di conclusione rasoterra attenzione attacco i Pumas provano un tap-in quasi concluso mancato da Bussone rimessa lunga rimessa lunga in favore di JJ che viene fermato con il fallo ribattuta veloce dolce che si appoggia sul cambiato che proverà sicuramente una conclusione ma viene murato oh gran gol di Biraschi calcio d'angolo passaggio per per leonardi che riappoggia su JJ palla dolce palla di nuovo a JJ che perde palla anticipato da Mancini ci siamo persi un gol di capoccetti di JJ scusate un bel fallonetto troppo grande parata di Ciprari palla salvata da Bussone prova con un numero andare via su per leonardi calcio d'angolo palla alta Bussone punta per leonardi lo salta per un attimo poi un'altra giocata Isuola torna indietro la tiene lì sull'angolo fuori fuori JJ per una conclusione da fuori Dulce saltano da Arnicola grande parata del portiere anche se da posizione centrale è intercettato da Biraschi laterale da Biraschi che in velocità se la porta fuori poi Dulce indietro per Cesaroni che passa a JJ dolce la difende col fisico in mezzo a due se ne va prova un'altra giocata ma perde palla Mancini che aveva scalato da centrale adesso è salito il giocato Mancini da Notar Nicola per Biraschi che difende palla su JJ che non lo molla poi c'è Notar Nicola Notar Nicola che prova ad andarsene Mancini fermato col fisico fallosamente da Cambiaso Libera Battenota Nicola Ciprari Gantiro sotto la traversa imparabile riprende il gioco Cesaroni per JJ che appoggia indietro di nuovo a JJ Cambiaso col fisico ma perde palla Biraschi indietro la difende col fisico e poi appoggia in suolata Notar Nicola che riappoggia su Biraschi che pasticcia un po' con la palla poi un passaggio una palla fuori misura per Notar Nicola e guardata da Dolce attenzione cambiaso proviamo un tap in ma il portiere fa un mezzo miracolo un misto tra bravura e fortuna perché la palla praticamente gli rotola addosso praticamente Cesaroni recupera palla Dolce Dolce punta Biraschi lo salta e poi appoggia su JJ palla un po' lunga JJ punta salta e salta Notar Nicola poi prova un numero e la palla sulla rete esterna calcio d'angolo palla telefonata Notar Nicola parte c'è anche Mancini però si allarga troppo palla scheggiata palla scheggiata scusate tunnel di Bussone super Leonardi lo ripunta tenta un'altra conclusione però quanto pare bastano uno più il portiere guarda cuori 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 l'angolo palla Biraschi che proverà sicuramente una conclusione ma è fuori misura palla recuperata da Biraschi da un lancio lungo di Ciprari Biraschi Biraschi se ne va sulla fascia e prova un passaggio al centro troppo forte fuori misura per Leonardo un lancio lunghissimo fuori misura rimessa laterale di Biraschi poi già su Bussone Bussone entrostato da Cambiaso Bussone si alza la palla che viene virgolata da JJ una palla troppo lunga però viene recuperata dal portiere Cambiaso Cambiaso attenzione per Leonardo che la difende col fisico su Bussone Cambiaso appoggia su Dolce Dolce versato da Mancini non trova nessuno difende col fisico poi appoggia su Cambiaso che proverà una conclusione di punta ma verrà murato poi JJ però una conclusione molto veleitaria si entra all'attacco contropiede del Partizan JJ appoggia su per Leonardo per Leonardo di messa laterale su JJ perde palla Notar Nicola appoggia su Damiano Bussone che la riappoggia su Notar Nicola tunnel di Cambiaso però non palla non recuperata attenzione gran gol di Pirasti che decreta praticamente la fine di questa partita vinta a mani basse dai Pumas siamo sull'8-4 è un minuto alla fine anzi 30 secondi 8-4 siamo sull'8-4 ha appena segnato Cambiaso di punta Cambiaso tiene palla letto passaggio per Leonardo che appoggia su JJ Cambiaso sfiora la palla sarebbe potuto essere l'8-5 questo siamo agli ultimi scampoli Bussone perde palla su JJ che lo punta prova un numero lo sposta con il fisico per Leonardo di tacco prova una buona giocata peccato che Cambiaso non ha capito Mancini in velocità velocissimo se ne va